Potrebbe sembrare una fabbrica come tante altre, ma dentro quest'edificio alle porte di Bruxelles si nasconde l'atelier della pasticceria Pierre Marcolini, riconosciuta come la migliore al mondo nel 2020. Questo titolo lo vivo come il riconoscimento a 25 anni di carriera, è già la seconda volta che lo ricevo, ma spero che in futuro ne arrivino ancora. I riconoscimenti scandiscono momenti importanti della vita professionale e aiutano lo spirito di squadra. Sono contento anche perché abbiamo introdotto diversi elementi di novità per rendere i nostri prodotti più genuini. Cerchiamo ad esempio di utilizzare materie prime locali quando possibile, evitiamo anche di usare i coloranti. Il nostro impegno verso l'eccellenza va in questa direzione. Marco Marcolini è circondato da un team di 15 collaboratori con cui scambia idee e sperimenta nuove ricette, miscele e consistenze. Negli anni ha sostituito la passione giovanile per la sperimentazione sfrenata con la ricerca più equilibrata dell'eccellenza. L'idea alla base del mio lavoro è di fare delle creazioni così buone da far superare il senso di colpa. Così, dopo aver mangiato un cioccolatino, guardi nella scatola e speri che ce ne sia rimasto almeno un altro. Ma anche questo grande maestro del dolce soffre della crisi provocata dalla pandemia del coronavirus. Tutti stanno subendo dei danni a causa dei blocchi. Gli effetti del blocco attuale e di quello passato si vedono sul nostro fatturato. Senza turisti in Belgio abbiamo perso una parte molto importante della nostra clientela. Il confinamento poi ha un impatto anche sul morale, perché non sappiamo come affrontare i mesi a venire. E per un imprenditore non c'è cosa peggiore che non saper rispondere ad un proprio collaboratore che chiede Allora capo, cosa pensa che faremo a dicembre? Marcolini e il suo team non resteranno comunque con le mani in mano in vista delle feste di fine anno. Se Natale è confinato dovrà essere, almeno che sia dolce.